abbastanza senza appello eh peccato peccato però ragazzi quest'Inghilterra c'ha voglia eh c'hanno voglia un pochino di rifarsi dopo dopo aver perso un finale all'europeo contro di noi c'hanno un po' voglia di rifarsi e si sente che comunque è una squadra che è organizzata bene ma anche quando quando era arrivata in finale contro l'Italia all'europeo si vedeva che comunque era una squadra organizzata bene e si vede si vede c'ha tanti ragazzi giovani tanti anche diciamo in realtà anche la 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 vecchia guardia che è continua a essere fondamentale per questa per quest'Inghilterra c'è una punizione adesso per il Senegal ma ha levato una bella parata di Pickford al primo tempo di tra l'altro di di D.A. della Salernitana il Senegal sinceramente ragazzi vi devo dire mi aspettavo qualche cosina di più eh cioè contando anche tipo la partita di ieri del dell'Australia contro contro l'Argentina che comunque nonostante appunto abbia perso anche a livello di occasione comunque l'Argentina si è mangiata diverse diverse palle gol però cioè ci sta ci provava ci provava il Senegal ragazzi dopo che ha preso il primo gol da da Henderson zero secondo tempo zero nulla disorganizzati avvero gli mancava maniera ragazzi ma è un Senegal che non non sarebbe mai andato avanti contro nessuna e che ora appunto sono tutte sono tutte partite dove le big le big dagli ottavi in poi appunto si impongano il girone è una cosa il girone si può anche soprattutto se tu sei avanti tipo l'ultima l'ultima partita lasciare anche andare insomma magari arriva l'ultima partita ma sì tipo il Portogallo con con la Corea di Sud per esempio tipo eh la Spagna con il Giappone cioè nel senso quelle quelle cose che magari sì ti crei ti dai anche qualche rischio in più che magari rischi di 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 buttare via un girone come potrebbe essere magari successo a qualche a qualche diciamo non big ma del mondiale ma qualche squadra magari un pochino più blasonata rispetto a un'altra ma agli ottavi qui appunto è dentro fuori e qui dai tutto dai tutto e l'Inghilterra ragazzi ha dato tutto cioè in realtà non è che si è impegnata nemmeno più di tanto però è stata compatta è stata concreta e basta quello quello che gli serviva per battere questo Senegal alla fine in realtà non c'è stato nemmeno bisogno di tutta questa questa grande forza di volontà si scontrerà con la Francia e quello sarà una bella partita ragazzi perché la Francia la Francia ragazzi è veramente forte è veramente forte tra l'altro oggi ha battuto appunto la Polonia praticamente annichilita la Polonia perché elevato il rigore al 95esimo è finita adesso 3 a 0 per l'Inghilterra completamente annichilita cioè questi questi ragazzi queste questa sarà una bella partita ragazzi questa potrebbe rivelarsi una bella partita perché in entrambi i casi che vada in un modo o che vada in un altro butti fuori una delle favorite c'è da dire che se l'Inghilterra riesce a buttare fuori la Francia è probabilmente la candidata numero uno per per la vittoria del mondiale perché dopo quello che abbiamo visto stasera ragazzi è un'Inghilterra compatta che sa giocare bene a calcio che usa bene gli schemi di gioco soprattutto appunto nel primo gol si è visto bene e che ha tanti interpreti sia in campo che in panchina tra ragazzini giovani e ragazzi esperti se riuscisse a buttare fuori questa Francia così incredibile e esuberante in campo a livello di cattiveria sarebbe un colpo un colpo da un miliardo un colpo da un miliardo c'è da dire che comunque se la Francia riuscisse a fare lo stesso appunto con l'Inghilterra sarebbe lo stesso un un gran colpo però quella sarà una bella partita è bella partita decisiva perché entrambe entrambe se la potrebbero giocare tranquillamente in finale però appunto in quel caso una una delle due se ne andrà via bella partita però peccato per il Senegal perché è stato completamente demoliti poverini completamente demoliti a cantare strombettare per tutta la partita ma non c'è stata veramente storia 3 a 0 secco K.O. tecnico è finita via.